Il rallentamento delle forniture a livello nazionale di vaccino contro il covid pesa anche a Piacenza. Sono già 3.000 le dosi mancanti rispetto al piano previsto. Oggi nella nostra provincia 5 decessi e 40 nuovi contagiati da coronavirus. Riunione in prefettura per parlare della situazione di crisi in cui versano le micro imprese. Nel Piacentino, fondo antiusura da un milione e mezzo di euro. Due importanti opere pubbliche per Casse San Giovanni e la nuova palestra al servizio delle scuole è stata inaugurata stamattina. Presentato il progetto per il nuovo asilo nido da 70 posti. Il crollo di Grosseto e l'ultimo posto in classifica che incombe hanno provocato un terremoto al Piacenza Calcio via Mr. Manzo, il vice Lunardon e il direttore sportivo di Battista. Il nuovo allenatore è Cristiano Scazzola. Stasera tutti gli approfondimenti dalle 20 e 15 a zona piace. Volley, Laga 6, Blue Energy batte Verona e continua inseguire il quinto posto. Basket, grandi successi per Assigieco e Beccari.